Era decollato ieri dal Tennessee, nel sud degli Stati Uniti d'America, per atterrare a Long Island, ma dopo aver raggiunto New York, un Cessna ha misteriosamente invertito la rotta e senza autorizzazione ha sorvolato il distretto di Washington. Subito sono partiti all'inseguimento due cacce F-16 che nell'alzarsi in volo hanno causato un voato sonico che ha allarmato per almeno un'ora la popolazione fino a quando le autorità hanno rassicurato che non c'erano minacce alla sicurezza. Telecamere di sorveglianza intanto riprendevano la reazione di un cane al bang supersonico generato dagli aerei da combattimento. Non ha risposto alle indicazioni il pilota del velivolo leggero che è precipitato in una zona rurale della Virgilia intorno alle 15.30 ora locale, solo verso le 20 i soccorritori hanno raggiunto il luogo dell'incidente. I militari assicurano di non aver abbattuto il piccolo aereo che trasportava la figlia del proprietario del Cessna, la nipote e la tata, ma sulla vicenda ha aperto un'indagine l'agenzia governativa NTSB il cui rapporto è atteso entro la fine del mese.